Oggi pomeriggio intorno alle 16.30 Milano è stata teatro di un grave incidente in via Boccaccio all'angolo con piazza Giovine Italia a Cadorna. Un furgone ha investito 4 persone sul marciapiede vicino a un attraversamento pedonale. Tragicamente un giovane di 30 anni è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda a causa di gravi traumi alla testa, al corpo e agli arti. In condizioni critiche sono il cittadino svizzero di 50 anni che ha subito l'amputazione di un braccio e ha avuto diversi arresti cardiaci per emorragia e una ragazza tedesca di 21 anni con gravi lesioni alle gambe. Un quarto ferito, un giovane di 21 anni, ha riportato ferite meno gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 4 ambulanze e 3 auto mediche dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il conducente del furgone, un uomo di 55 anni, è risultato positivo all'alcol test. La piazza è stata chiusa al traffico per permettere alla polizia locale di effettuare i rilievi necessari e i mezzi pubblici della zona sono stati deviati. Grazie. 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 Grazie.